Buongiorno a tutti, mi chiamo Cardelli Sara, nella vita faccio l'infermiera, ma la mia grande passione è sempre stata la scrittura. All'inizio mi approcciavo alla scrittura in quanto hobby, in quanto passione in sé e per sé. Con il tempo ho cominciato a pensare alla scrittura come qualcosa di più professionale, qualcosa che avrebbe potuto accompagnarmi nella vita affiancato al mio lavoro principale. E così ho iniziato a informarmi sul mondo dell'editoria, sul mondo della scrittura creativa. Ho conosciuto la realtà di Rotte Narrative un po' per caso, perché ho iniziato a leggere i libri di Livio Gambarini, della saga di Eternal War. Da lì ho cominciato a informarmi, ho scoperto il canale YouTube e dopo diversi video del canale YouTube di Rotte Narrative Sono rimasta davvero molto colpita dal metodo di insegnamento del professor Gambarini e quindi ho voluto provare a entrare a far parte di questa realtà. E così ho acquistato lo scrittore speciale e ho iniziato a seguire le lezioni. È stato davvero molto illuminante, tuttora sto seguendo le lezioni del videocorso. Sono molto istruttive, davvero ben realizzate, si seguono facilmente e la realtà di Rotte Narrative è davvero molto valida per chiunque voglia approcciarsi in modo professionale al mondo della scrittura e trovare la propria rotta e seguirla e sperare di diventare davvero uno scrittore. Quindi mi sento di consigliarla a chiunque come me, che era un po' diciamo in alto mare nel mondo editoriale e non sapeva bene come inserirsi. Questo videocorso ti permette di seguire passo passo quella che è l'evoluzione dello scrittore dalla mentalità allo stile, alla costruzione di una storia, cioè veramente di tutto. E ne vale la pena, ne vale la pena se si vuole fare sul serio. Grazie, spero che diventerete anche voi corsisti come me.